Un po' di anni lo sappiamo che è tanto sudamericano, in particolare con giocatori argentini. Beh, allora cosa succede? Che anche nel ritiro quest'estate ci sia un'usanza proprio tipica argentina. Stiamo parlando, come vediamo anche nelle immagini, di Andukar e altri compagni di squadra che bevono il mate, una bevanda classica, calda, simile al tè. Ma insomma, in realtà la vediamo anche qualche volta negli spogliatoi, nel prepartita. Sì, molto sudamericana, argentini, brasiliani. Siamo un po' abituati, questo bicchiere è molto particolare, anche un rito per stare insieme. Così succede anche in questo ritiro del Catania. Ascoltiamo Isco, ci parla di un segreto in realtà, lo svela così, sentite. Secondo me ogni anno abbiamo cresciuto tantissimo. Nella stagione precedente abbiamo fatto un campionato bellissimo, quindi questo sarà ancora più difficile perché tutte le squadre ci sono rinforzate, quindi sarà ancora più difficile rinconfermare quello che abbiamo fatto nella stagione precedente. Sono andati via giocatori importanti, ma sono arrivati anche giocatori importanti, di grande squadra. Penso che ci siamo rinforzati bene e questo anno possiamo fare molto bene. Ci dicono che sei l'ideatore degli scherzi, soprattutto in ritiro. Sì, mi piace, sono uno che mi piace scherzare, ma tranquillo, soltanto per divertirci un po', perché essere in ritiro un mese lontano da casa e famiglia, qualcosa dobbiamo fare per divertirci. È un bel clima quello che c'è nel raduno del Catania e li vedremo più tardi anche...